Lo spettro di una nuova emergenza rifiuti potrebbe essere dietro l'angolo se l'amministrazione comunale di Caltagirone dovesse ritardare i pagamenti delle spettanze arretrate dovute agli operatori ecologici della Dasti, che aderendo allo sciopero nazionale si sono assenuti dal lavoro. Abbiamo di avanzare dei soldi, sono due mesi più la tredicesima tre e nessuno forza politica ci può dare questi soldi né il signor sindaco né il chito né il chito. Noi a casa stiamo senza pane e senza pasta, stiamo rivendati perché non abbiamo più soldi. Due assemblee sindacali sono intanto previste a breve, una sabato 13 dicembre dalle 9 alle 12 e l'altra lunedì 15 dicembre sempre dalle 9 alle 12. I disagi saranno inevitabili anche perché la domenica il servizio è ridotto. Non è da escludere che i cumuli di rifiuti invaderanno le strade. Noi stiamo anche scioperando per l'erubuzione che ci deve dare, che avanziamo dalla ditta a Dasti, che sarebbe l'ottobre, novembre e la tredicesima e fra poco sta maturando anche dicembre. Ma noi chiediamo un urlo, diciamo un urlo in più, un urlo di questa amministrazione che a tutt'oggi non ci sta a dire una data, non ci sta a dire delle notizie reali. I 79 operatori ecologici rivendicano gli stipendi di ottobre e novembre della tredicesima mensilità e a breve anche di dicembre. Allo sciopero di ieri hanno aderito i sindacati di Cigell, UIL e FIADEL, mentre la CISL si era già dissociata. A livello nazionale, sì, vero, siamo molto preoccupati. A livello locale siamo talmente disastrati che non c'è niente, proprio niente. Le notizie che ci arrivano giorno dopo giorno sono di mandati o non mandati, ci sono o non ci sono, questi soldi ma mi sa che è solo una chimera, non c'è niente. Quindi noi pretendiamo da parte dell'amministrazione in primis, poi da parte dell'azienda che venga qualcuno a darci delle informazioni concrete. Se loro vengono e ci dicono di aspettare, ma almeno siamo coscienti di quello che noi andiamo incontro. Quindi stanno giocando non con noi come persone, ma con la dignità delle nostre famiglie. Cioè questo è un primo passo, ma affinché voi non risolviate la cosa come amministratori, come azienda, cioè noi saremo su un piede di guerra. Non ci fermeremo, non ci fermeremo. Valutate tutte le situazioni.